C'è da aspettarsi delle rilevazioni clamorose da questi atti? La cosa serve per una ricostruzione storica, storico-politica della vicenda del nostro Paese. Noi non abbiamo alcun intento di costruire un evento che abbia un impatto sulle questioni giudiziarie, anche perché voi sapete che tutte queste questioni hanno avuto tutti i gradi di giudizio che si sono completati. E non è una verità giudiziaria quella che può nascere da questi atti. Naturalmente può nascere una verità storico-politica. Può consentire di leggere eventi che nelle mani di studiosi, di giornalisti, anche di semplici cittadini possono rivedere momenti della storia del nostro Paese e vederlo attraverso la consultazione diretta di documenti che non sono stati nella disponibilità dei comuni cittadini o dei giornalisti o degli studiosi. Sono stati nella disponibilità dei magistrati che hanno indagato su quelle vicende perché appunto, come è noto, non c'era il Segretario di Stato. Vorrei trasmettervi un messaggio che l'imponenza della documentazione non ha precedenti. Nel senso che c'è stato un altro precedente che è stata la declassificazione del materiale relativo al sequestro e all'omicidio dell'onorevole Aldo Moro e tuttavia voi comprenderete, pur essendo quello un elemento particolarmente rilevante nella vita del nostro Paese, è quanto quel conferimento ha consentito di ricostruire momenti dal punto di vista storico-politico di quel passaggio così delicato per la vita dell'Italia. Questi dati che vi sto trasmettendo sono una mole molto importante, non voglio nemmeno dire imponente perché non voglio ancora... al momento tra l'altro non lo sappiamo nemmeno noi quanto sono i documenti e quindi dire l'aggettivo imponente è un po' correre un po' troppo avanti ma sarà sicuramente un lavoro molto importante, un lavoro che nella storia della Repubblica non ha un precedente.